Buongiorno. E chi siete voi? È militare, lei? Eh, sì, ufficiale. Ufficiale di complemento. Sto svenendo dalla fame. C'è che la guerra fa schifo, ma... Non partiamo la bussola e soprattutto non lasciatemi prendere dal panni. Calma! Che state a fare? Aspettavo. Allora, non fa il credino più e giù. Delle vita saprai Della casetta incamminata La gioia sarai Era la radio che bisogna resistere. A sua maestà il re Vittorio Emanuele III. Viva Vittorio Emanuele! Sempre la nuova vita nostra I più gioiosi Così... Rosissimo! Vittorio Emanuele! No, votiamo! Vittorio Emanuele! Vittorio Emanuele! Ma non ti faccio il padre, lui! Molto实藉! Vittorio Emanuele! Vittorio Emanuele! Vittorio Emanuele! Grazie, buongiorno! Io viju! Grazie.